Anche tu pensi che Dropbox non sia proprio l'ideale per un utilizzo aziendale? E quindi? Dropbox è un sistema che per il mondo consumer è uno spettacolo, è una meraviglia. Però per il mondo aziendale non è proprio il massimo, non è facile da gestire, non è facile da invigliare. L'IT aziendale vuole il controllo, giustamente, sul dato aziendale. E allora quali sono le alternative? Noi abbiamo provato tanti sistemi di file sharing. Abbiamo creato Safety Cloud Box usando il meglio di quello che c'è sul mercato perché oggi le aziende vogliono il controllo sul dato aziendale. I sistemi di file sharing spesso invece fanno sparare dati ovunque quando invece quello che si vuole è condividere i dati fra gli utenti, magari di sedi distaccate, magari distribuire fari agli agenti. Con Safety Cloud Box tu hai il controllo totale delle informazioni aziendali anche perché è integrato ad Active Directory. E dove stanno queste informazioni? Puoi scegliere, puoi metterli a casa tua, nel tuo data center, oppure da noi, nel nostro data center, quello di Safety Cloud. perché è un'opzione, quello di dove stanno le informazioni, decidi tu. Se ne metti da noi, puoi scegliere di cifrare l'intero volt. Quindi i dati li vedi solo tu, nessuno può avere accesso a quell'informazione, neppure il file name. Tutto transita cifrato. Safety Cloud Box è anche compatibile col virtual desktop. I file sharing normalmente aziendali, quindi le alternative a Dropbox, non sono compatibili con i terminal server, con i VDI. Safety Cloud Box è perfettamente compatibile col virtual desktop perché non ridonda le informazioni. Vi accedi senza replicare mille volte, ingigantendo lo spazio in data center, le informazioni del file sharing. Quindi hai tutta la compatibilità che ti serve, la libertà che vuoi di gestire i dati dove ti pare, e ne hai anche il controllo completo. Basta con l'FTP, per esempio. Basta con la storia di distribuire con un FTP i dati agli agenti, alle sedi distaccate. Con Safety Cloud Box distribuisci le informazioni a chi ti pare, come ti pari. E hai anche un report preciso e puntuale di chi ha accesso, di chi ha avuto accesso a queste informazioni. Se ti interessa approfondire Safety Cloud Box, vai su Safety Cloud e cerchi prodotto Box, oppure box.serverlab.it. Serverlab.it.it.